Come aboca siamo molto lieti di poter presentare la nuova opera di Frisiof Kappa e Pierluigi Luisi, Vita e Natura, una visione sistemica, che rappresenta per noi un'opera fondamentale nel nostro percorso di ricerca sul rapporto tra uomo e natura. Siamo particolarmente lieti di farlo oggi qui al Museo della Scienza di Trento, perché in realtà questo libro rappresenta per noi un passaggio fondamentale nella storia della scienza, in quanto riprende e riporta verso il futuro l'evoluzione della scienza d'avanguardia degli ultimi trent'anni e per questo crediamo che questa sia la location migliore dove aprire il nostro dibattito. Siamo qui in realtà per festeggiare la nascita di questa creatura, che è un grande libro, è un grande libro che può essere letto praticamente da chiunque, da persone con gli interessi più disparati. È un libro grande ma è un grande libro, ecco tutte e due le cose insieme, uno di quei libri summa che sistemano tanti aspetti del nostro pensiero, di nozioni magari scomposte che abbiamo e creano un percorso, una traiettoria. È un libro meraviglioso anche perché prima ancora di cominciare, proprio nell'introduzione, prima di entrare nel vivo di una serie di disamine, di esposizioni, di racconti storici e poi di proposte, dice la soluzione c'è. Ecco in questo momento qui sentirsi dire, prima ancora di cominciare a leggere e a parlare, la soluzione c'è, la soluzione ovviamente per tutti i grandi problemi che sappiamo circondarci, è ovviamente una cosa positiva ma forse ancora più interessante e addirittura entusiasmante è la frase che segue, la soluzione c'è ma bisogna cambiare sguardo. Ecco come bisogna cambiare sguardo, che tipo di visione bisogna immaginare, quanto bisogna smuovere la propria fantasia, l'immaginazione, ribaltare i pregiudizi, cambiare le proprie conoscenze, tutto questo viene ovviamente esposto nel corso del libro, che è un libro che parla apparentemente di tutto, parla di Einstein e del Bonobo, parla di fisica o di biologia e poi arriva fino all'ecologia, arriva a proposte concrete, parla moltissimo della bellezza. Ecco, di tutto questo, di tutto questo questa sera avrete ovviamente soltanto un assaggio, ma credo, sono sicura che sarà un assaggio che poi vi porterà invece a leggere, ho visto che qualcuno l'ha già fatto, allora io inviterei a salire su questo palcoscenico il professor Fricio Capra e il professor Pierluigi Luisi. Buonasera. Accomodatevi. Il professor Capra è fisico, voi conoscete credo alcuni dei titoli della sua bibliografia, mentre il professor Pierluigi Luisi insegna biochimica a Roma, insomma i punti di formazione sono questi, ma poi la traiettoria che percorrono insieme è varia, tocca appunto varie materie e insieme è un'altra parola importante, perché voi sentirete dalle loro parole, prima dalle esposizioni che ciascuno compirà e poi dal dialogo che intreceremo insieme e con voi del pubblico, sentirete quanto alla base di questo libro, grande grande libro, ci sia una profondissima e vitalissima amicizia intellettuale e anche questa è una cosa rara importante. Un'altra cosa rara, direi quasi un'anomalia che vorrei sottolineare prima ancora di lasciare la parola nell'ordine al professor Capra e poi al professor Luisi, è il fatto che questo libro non è pubblicato da un editore diciamo mainstream, ma da un editore aboca che è anche un'azienda, che è anche un luogo di pensiero, di riflessione, di sguardo appunto nuovo sul presente e sul futuro. E allora volevo chiedere a Massimo Mercati che di aboca il direttore generale, nonché la mente, di dirci chi gli l'ha fatto fare, di imbarcarsi in un'impresa editoriale di questa entità. Perché? Salgo un momento vicino a Frisov, allora per dire due parole, la domanda giusta è perché, nel senso che è stato un libro veramente importante, un grande impegno editoriale anche perché siamo riusciti ad averlo disponibile in Italia quando è stato pubblicato e presentato alla Cambridge University Press soltanto 15 giorni fa, quindi abbiamo cercato di renderlo disponibile per il pubblico italiano nel minor tempo possibile. Ma ci tengo a dire due parole, oltre che per ringraziare naturalmente gli autori, Giovanna e il Muse per averci ospitato questa sera, perché questo libro rappresenta per noi una tappa fondamentale nel percorso di ricerca che oramai da anni stiamo facendo sul rapporto tra uomo e natura. Se conoscete Aboca, Aboca è un'azienda che opera nell'ambito della salute, noi produciamo e lavoriamo con prodotti a base di piante medicinali 100% naturali e quindi la domanda perché il naturale è meglio di qualcos'altro è per noi fondamentale. Siamo poi un'azienda verticalmente integrata e quindi che va dall'agricoltura biologica alla produzione, seguendo tutta una serie di filiere, regole, valori di sostenibilità per la semplice ragione che per noi la natura è la fonte del nostro business e quindi dobbiamo difenderla, ma dobbiamo anche capire quale ne è il valore e l'opera della quale andremo a parlare oggi, Vita e Natura, il fatto di poterne parlare qui nel Museo della Scienza è per noi un passo avanti importantissimo perché significa trovare le basi scientifiche di quello in cui da sempre crediamo e cioè il fatto che le sostanze complesse naturali possono avere dei plus rispetto alle sostanze di sintesi artificiali create dall'uomo e nel libro il linguaggio nuovo che il libro porta avanti, qui si parla di reti, di pattern, di autoorganizzazione, emergenza, evoluzione, coevoluzione, ci spiega perché forse fra l'uomo e la natura c'è un rapporto diverso da quello che normalmente intendiamo, ma il libro e questo è forse il perché più vero oltre a nascere da una profonda amicizia maturata nel tempo con Frisio e più recentemente con Pierluigi sviluppa questi concetti non solo a livello scientifico ma anche sociale, economico e ci dà le chiavi per una lettura dell'attuale crisi ecologica ed economica e rimette in discussione il fatto che non si possa più crescere, che non si possa più andare avanti, che nessuno di noi possa influire su un destino che è più grande del nostro. Come sentirete vi invito ad ascoltare con attenzione la lettura in realtà all'interno dei sistemi complessi piccoli cambiamenti possono generare grandi mutamenti e questo è un grande messaggio di speranza con una frase di questo si chiude il libro che apre però alla nostra azione e anche alla nostra responsabilità. Si tratta di cambiare un po' paradigma di pensiero e spero che in questo modo anche noi possiamo portare il nostro contributo. Quindi grazie a tutti voi per la vostra presenza e buona serata a tutti. Grazie Giovanna, lasciamo la parola. Riguardo da qui. Bene, allora io comincerò. Buonasera a tutti. Io sono austriaco di Innsbruck e infatti Capra come sapete è un nome italiano e i miei antenati vengono proprio dal Trentino, dalla Val Sugana precisamente e dunque è un grande piacere per me di ritornare alla terra degli antenati diciamo. È un grande piacere anche, è un grandissimo piacere di essere qui con il mio amico Pierluigi. Abbiamo lavorato tanto durante tre anni e di vedere adesso il libro finito è un momento veramente emozionale per tutte e due. Poi vedere un'edizione italiana tre settimane dopo il lancio della Cambridge University Press, eravamo tutte e due a Cambridge e a Londra, vederlo in italiano qualche settimana dopo è veramente un miracolo e lo so che c'è tutta una squadra da Avoc che hanno lavorato veramente giorno e notte per produrre il libro e siamo gratissimi a questo sforzo. Beh per me personalmente questo libro è la realizzazione di un sogno che ho avuto da moltissimi anni, è un testo multidisciplinare nel cui presentiamo un orizzonte concettuale coerente che integra quattro dimensioni della vita, la dimensione biologica ben inteso ma anche la dimensione cognitiva, la dimensione sociale e la dimensione ecologica e poi discutiamo le implicazioni filosofiche, sociali e politiche di questa visione integrante. Vorrei cominciare con alcune parole su queste implicazioni. La grande sfida del nostro tempo è ricostruire e mantenere comunità sostenibili. In una comunità sostenibile non va sostenuta la crescita economica o un vantaggio competitivo, cose così, ma va sostenuta l'intera rete della vita dalla quale dipende la nostra sopravvivenza a lungo termine. In altre parole, una comunità sostenibile è progettata in modo tale che il suo stile di vita, le sue imprese, l'economia, le strutture fisiche e le tecnologie non interferiscano con la capacità insita nella natura di sostenere la vita. E per fare quello ben inteso bisogna prima sapere come la natura sostiene la vita. Così si scopre una concezione della vita completamente nuova. Infatti, questa nuova concezione della vita si è formata durante gli ultimi 30 anni, più o meno. All'avanguardia della scienza contemporanea, l'universo non è più visto come una macchina fatta di componenti elementari. Abbiamo scoperto che il mondo materiale, alla fine, è una rete inseparabile di relazioni, che il pianeta nel suo complesso è un sistema vivente che si autoregola. L'immagine del corpo umano come una macchina e della mente come entità separata, si sta sostituendo da una visione che vede non solo il cervello, ma anche il sistema immunitario, gli organi del corpo e persino ogni cellula come un sistema vivente cognitivo. L'evoluzione non è più vista come una lotta competitiva per l'esistenza, ma piuttosto come una danza cooperativa in cui la creatività e l'emergere costante di novità sono le forze trainanti. E con la nuova enfasi su complessità, reti e schemi di organizzazione, una nuova scienza delle qualità sta lentamente emergendo. Nel nostro libro Pierluigi ed io offriamo una sintesi di questa nuova scienza. La chiamiamo la visione sistemica della vita perché coinvolge un nuovo modo sistemico di pensare, vuol dire pensare in termini di relazioni, di schemi, di contesto. Questo pensiero sistemico emerge negli anni 20 e 30 del novecento da una serie di dialoghi interdisciplinare, dall'inizio interdisciplinare, tra biologi, psicologi ed ecologi. L'ecologia fu una scienza molto nuova in questi anni 1920 e gli scienziati di questi campi tutti si resero conto che un sistema vivente, un organismo, un sistema sociale o un ecosistema è un insieme integrato le cui proprietà non possono essere ridotte a quelle di parti più piccole. Le proprietà dette sistemiche sono proprietà dell'intero che nessuna delle parti possiede. Il pensiero sistemico quindi coinvolge un cambiamento di prospettiva dalle parti all'intero. I primi pensatori sistemici formularono questa comprensione con l'asserzione adesso famosa e ben conosciuta, l'intero è più della somma delle sue parti. La teoria sistemica ci dice anche che tutti i sistemi viventi condividono una serie di proprietà e di principi di organizzazione. Questo significa che il pensiero sistemico può essere usato per integrare le discipline accademiche e per scoprire delle similitudini tra diversi fenomeni nel grande campo dei sistemi viventi. Vi darò esempi fra alcuni minuti. Allora durante gli anni 70 e 80 il pensiero sistemico si è elevato a un nuovo livello con lo sviluppo della teoria della complessità, nota in linguaggio tecnico come dinamica non lineare. È una teoria matematica che ci permette per la prima volta di modellare e di capire sistemi non lineari molto complessi. Il grande interesse per fenomeni non lineari negli anni 70 e 80 ha generato una serie di nuove e potenti teorie che hanno aumentato drammaticamente la nostra comprensione di molte caratteristiche fondamentali della vita. La visione sistemica della vita è il nome della nostra sintesi di quelle teorie. Luigi, possiamo pensare, possiamo dire che questa è la prima sintesi globale di queste teorie, perché sono teorie veramente molto recenti. Per discutere questa sintesi ovviamente ci vuole tutto un corso di un anno o almeno di un semestre, allora oggi qui stasera possiamo darvi solamente alcuni spunti. Una delle scoperte più importanti della comprensione sistemica della vita è il riconoscimento che la rete è lo sistema, lo schema di organizzazione principale di tutti i sistemi viventi. Come sapete gli ecosistemi sono interpretati come reti alimentari, cioè reti di organismi. Gli organismi sono reti di cellule e le cellule sono reti di molecole. La rete è uno schema che è comune a tutta la vita. Ovunque vediamo la vita, vediamo reti viventi. In effetti possiamo dire che al cuore del cambiamento dei paradigmi, dalla visione meccanicistica della vita alla visione sistemica, troviamo un cambiamento fondamentale fondamentale di metafore, da una visione del mondo come macchina a una visione del mondo come rete. Pierluigi discuterà in più dettaglio la nuova comprensione della vita in termini di reti auto-organizzanti basata sulla teoria dell'autopoiesi. Menzionerà anche alcuni altri concetti sistemici che discutiamo nel libro includendo una nuova concezione della mente e della coscienza e dirà alcune parole sul nostro capitolo su scienza e spiritualità. Io vorrei tornare alle dimensioni sociali ed ecologiche della vita. Secondo la teoria dell'autopoiesi sociale sviluppata dal sociologo Niklas Luhmann in Germania, le reti viventi nella società umana sono reti di comunicazioni. Come le reti biologiche sono autogeneranti, ma ciò che generano è di gran parte non materiale. Ogni comunicazione genera pensieri, informazioni, significati che fanno nascere nuove comunicazioni e così la intera rete genera se stessa. è molto istruttivo di comparare le reti biologiche e sociali. Reti biologiche operano nell'ambiente della materia, reti sociali nell'ambiente del significato. Ambi due producono strutture materiali. tutto ciò che vediamo attorno di noi, l'infrastruttura è stata costruita, prodotta da reti sociali, imprese eccetera, ma quelle reti sociali producono anche le caratteristiche non materiali della cultura, cioè valori, norme di comportamento, credenze, conoscenze e così via. I sistemi biologici scambiano molecole nelle loro reti di reazioni chimiche. I sistemi sociali scambiano idee e informazioni nelle loro reti di comunicazioni. E finalmente reti biologiche producono e sostengono un confine materiale, come la membrana che è attorno di una cellula, e questo confine materiale impone delle limitazioni sulla chimica che si svolge all'interiore. Dell'altra parte, le reti sociali producono e sostengono un confine non materiale, un confine culturale, che impone delle limitazioni sul comportamento dei suoi membri. Nel nostro libro applichiamo queste considerazioni all'economia, alla gestione delle imprese, e discutiamo una nuova comprensione sistemica della leadership. Nell'ultima parte del libro, intitolata Sostenendo la rete della vita, discutiamo l'importanza critica della visione sistemica della vita per affrontare i vari problemi della nostra crisi globale. Dunque, il nostro libro ha una grande parte, molto pratica, concreta, di 200 pagine, l'ultima parte è tutto applicazioni. Oggi sta diventando sempre più evidente che i problemi cruciali del nostro tempo, energia, ambiente, cambiamento climatico, povertà, eccetera, non possono essere capiti separatamente. Sono problemi sistemici. Vuol dire che sono tutti interconnessi e interdipendenti. Il dilemma fondamentale alla base di tutti questi problemi sembra essere l'illusione che su un pianeta limitato sia possibile una crescita illimitata. Questa fiducia irrazionale in una perenne crescita economica è indicativa di uno scontro fondamentale fra un pensiero lineare, progettando linearmente nel futuro, e gli schemi non lineari della nostra biosfera, cioè i sistemi e i cicli ecologici che costituiscono la rete della vita. Questa rete globale, altamente non lineare, contiene innumerevoli cicli di feedback attraverso i quali il pianeta si regola e trova un suo equilibrio. Il nostro attuale sistema economico, invece, è alimentato da un materialismo e un'avidità che non sembrano riconoscere alcun limite. Allora, questa crescita economica e anche la crescita delle aziende sono il motore del capitalismo globale, il sistema economico attualmente dominante. Al centro dell'economia globale vi è una rete di flussi finanziari priva di qualsiasi impostazione etica. Infatti, l'ineguaglianza e l'emarginazione sociale sono caratteristiche insite nella globalizzazione economica, ampliando il divario fra ricchi e poveri e aumentando la povertà nel mondo. Questo sistema economico persegue implacabilmente una crescita illimitata, promuovendo un consumo eccessivo in un'economia dello spreco a uso intensivo di energia e di risorse che generano rifiuti e inquinamenti e dissipano le risorse della terra. Inoltre, questi problemi ambientali sono aggravati dal cambiamento climatico causato da tecnologie a uso intensivo di energia e di combustibili fossili. Allora sembra chiaro che la sfida cruciale sia come passare da un sistema economico basato sul concetto di crescita illimitata a un sistema che sia ecologicamente sostenibile e socialmente equo. Secondo me, una crescita zero oppure una decrescita non è la soluzione, perché la crescita è una caratteristica centrale della vita. Una società o un'economia che non crescono prima o poi moriranno. Nella natura, però, la crescita non è lineare e illimitata, mentre alcune parti degli organismi o degli ecosistemi crescono, altre decadono. liberando e riciclando le proprie componenti che a loro volta diventano risorse per una nuova crescita. Questo tipo di crescita equilibrata e sfaccettata è ben nota ai biologi e agli ecologi. La chiamiamo crescita qualitativa, in contraposizione al concetto economico attuale di crescita quantitativa misurata con l'indice indifferenziato del prodotto interno lordo, il PIL. Infatti, quello che si chiama crescita oggigiorno è più che altro spreco. E così, infatti, abbiamo un'economia di spreco di gran parte è della distruzione. Crescita qualitativa, invece, è una crescita che valorizza la qualità della vita attraverso la generazione e la rigenerazione. Nelle società, negli ecosistemi e negli organismi viventi, la crescita qualitativa include un aumento della complessità, della raffinatezza e della maturità. Questa attenzione alla crescita qualitativa è in armonia totale con la nuova concezione scientifica della vita. che, come ho già detto, è essenzialmente una scienza delle qualità. Le qualità nascono da processi e schemi relazionali fra le parti. Dunque, se cerchiamo di scrivere in termini puramente quantitativi sistemi complessi come gli organismi, gli ecosistemi, le società e le economie, non potremo comprendere la loro natura. Le quantità possono essere misurate, le qualità richiedono una mappatura, è tutto un approccio diverso. quindi, per valutare la salute di un'economia abbiamo bisogno di indicatori qualitativi di povertà, salute, educazione, inclusione sociale, ambiente, eccetera. Nessuno di quelli può essere ridotto a coefficienti monetari o aggregato agli altri per formare una semplice cifra. Dobbiamo qualificare la crescita, cioè dobbiamo distinguere fra crescita buona e crescita cattiva. Allora, da un punto di vista ecologico, la distinzione fra crescita economica buona e cattiva è ovvia. La crescita cattiva è una crescita di servizi e processi produttivi che sono basati sui combustibili fossili, hanno a che fare con sostanze tossiche, esauriscono le nostre risorse naturali e degradano gli ecosistemi del pianeta. La crescita buona è una crescita di servizi e processi di produzione più efficienti che comprendono energie rinnovabili, emissioni zero, riciclo continuo delle risorse naturali e il risanamento degli ecosistemi della terra. Dobbiamo allora aumentare la crescita buona e ridurre la crescita cattiva in modo che le risorse naturali e umane legate ai processi di produzione inefficienti e inquinanti possano essere liberate e riciclate in processi efficienti e sostenibili. in conclusione vorrei dire alcune parole di nuovo a proposito della sostenibilità ecologica. Come ho già detto una comunità sostenibile è progettata in modo tale che il suo stile di vita le sue imprese l'economia eccetera non interferiscono con la capacità insita della natura di sostenere la vita. Il primo passo in questo sforzo naturalmente deve essere quello di comprendere i principi di organizzazione che gli ecosistemi della terra hanno sviluppato per sostenere la rete della vita. Questa conoscenza dei fondamentali principi ecologici in altre parole della dimensione ecologica della visione sistemica della vita è noto oggigiorno come ecoliteracy essere letterati in ecologia oppure formazione ecologica. Diventare letterati in ecologia è il primo passo sulla strada verso la sostenibilità. il secondo passo è l'ecodesign ossia la progettazione ecologica. Dobbiamo applicare la conoscenza ecologica alla riprogettazione delle nostre tecnologie e istituzioni sociali in modo da colmare l'attuale divario fra la progettazione umana e i sistemi sostenibili della natura. Come sapete negli ultimi anni abbiamo visto un drastico aumento nelle pratiche dell'ecodesign tutti ben documentati. Nel nostro libro presentiamo un riassunto abbastanza dettagliato di queste pratiche e concludiamo che l'attuale rivoluzione dell'ecodesign rende evidente che la formazione ecologica e la visione sistemica della vita ci danno le conoscenze e le tecnologie per creare un futuro sostenibile. Dunque come ha detto Giovanni ci sono soluzioni quello che ci serve è la volontà politica e la leadership. Allora vorrei dare la parola a Pierluigi per discutere di più la dimensione biologica e la dimensione cognitiva di questa visione sistemica. Grazie della vostra attenzione. Grazie. Grazie.